ma buongiorno buongiorno a tutti come state chi non muore si rivede il detto dice così e io come vedete sono viva e vegeta e anche in carne e che dirvi è tantissimo tempo che non ci vediamo più di un mese vi saluto tutti con tanto affetto vi ringrazio per i tanti messaggi che mi avete mandato come ho risposto agli amici e le amiche che mi hanno scritto stavo bene stavo fin troppo bene che mi sono permessa di staccare completamente dai social ma davvero quasi completamente devo dire che sono arrivata alla fine dell'estate molto provata sia dal punto di vista mentale che fisico questo caldo che è arrivato tardi comunque mi ha messo veramente ko ma soprattutto dal punto di vista mentale è stato un anno per me molto difficoltoso prima con la mia mamma che non stava bene poi comunque anche a livello lavorativo non tanto per quella che è la mia posizione o il mio lavoro perché non c'era nessun problema proprio per dei rapporti che si sono incrinati all'interno dell'azienda con dei colleghi tanti cambiamenti colleghi che sono andati in pensione colleghi che si sono licenziati nuovi colleghi arrivati e quindi quando diciamo l'equilibrio così si si rompe e ci si deve adattare a nuove situazioni diventa difficile diventa difficile poi comunque se arriva all'estate che si stanchi tutti e quindi ci sono magari degli atteggiamenti dei modi di fare che indispettiscono e alla fine si litiga insomma comunque ho lasciato veramente il mese di inizi di agosto che ho smesso di andare in ufficio perché l'azienda è rimasta chiusa e ho deciso che era proprio il momento di staccare completamente perché avevo bisogno di recuperare avevo bisogno di recuperare di trovare un certo equilibrio di riposarmi nonostante non abbiamo fatto delle grandissime vacanze ma è andata bene così e quindi nulla adesso a settembre è come se fosse un anno nuovo per me sempre ogni anno anche se quest'anno per la prima volta da 26 anni non ci sarà più l'inizio della scuola o comunque non ci sarà più l'inizio della scuola per quanto riguarda le scuole dell'obbligo le scuole superiori lucia al momento è ancora un po' indecisa sul da farsi sta avagliando alcune proposte la maturità è andata bene ha passato una bellissima estate facendo la responsabile a un campo scout e poi andando al suo campo scout a fare la ruta è stata un'estate bella per tutti ma anche con tante novità premetto per chi viene qui per la prima volta o magari si approccia ai video della Eli che io sono molto prolissa e mancando poi da così tanto tempo i miei video sono sempre un racconto di quello che ho fatto delle cose che posso raccontare della mia famiglia e non soltanto di libri profumi cosmetici lavori a maglia cioè all'interno del mio video ci sono io e io sono sono così ci sono state davvero tante novità oggi stiamo qui per parlarvi di una parte dei libri che ho letto quest'estate è stata forse l'una delle pochissime cose che sono riuscita a fare e che mi ha aiutato a rilassarmi perché questo caldo non mi ha permesso di fare tutto quello che volevo e e quindi leggevo leggevo e lavoravo all'uncinetto penso di essere arrivata a confezionare 40 sacchettini porta sapone che avete visto nel video scorso creativo che dirvi ci sono state tante belle novità una è questa riesco a farvelo vedere non riesco a farvelo vedere vabbè ve lo faccio vedere non lo faccio vedere faccio una foto vabbè lasciamo perdere mi sono fatta un tatuaggio il mio primo tatuaggio so che tante di voi direte ma sei fuori non vi dico i commenti della rinella che mi ha detto che il tatuaggio dovevo farmelo nel cervello ma che ero completamente fuori di testa che una donna di 54 anni non si può permettere di fare queste cose e invece io a 54 anni proprio perché questa è un'estate particolare e perché per me è un periodo particolare di rinascita dove mi sono ritrovata in tante cose dove mi sono permessa alcuni atteggiamenti che prima non mi ero mai permessa mi sono sentita libera e mi sono fatta tatuare questo soffione che è uno dei miei fiori preferiti che esprime la leggerezza che esprime un senso di libertà freedom un senso di libertà un senso di così di spensieratezza dove tutte le parti del soffione volano e vanno ovunque no? e questo era per me il significato di questo tatuaggio che volevo fare non ho scelto io di farmelo nel senso che Paolo me l'aveva regalato a Natale poi per tanti impegni forse non ero ancora pronta forse non lo so l'ho fatto a metà agosto e sono contentissima e come tanti di voi mi hanno detto quando cominci a fare tatuaggi poi ti viene in mente di farne altri e infatti così è ho già altre idee non lo diremo a Larinella ma fa niente cioè per lei è impensabile questa cosa lasciamo perdere ha dato del matto anche a Paolo che non glielo si può toccare ma così è stato che altro dirvi ci siamo ritagliati io e Paolo tre giorni in Provenza siamo andati a Grasse anche questa è stata una sorpresa perché abbiamo deciso nel giro di due giorni lui mi ha detto che mi avrebbe voluto portare come regalo di compleanno a Grasse sapendo appunto la mia passione per i profumi e comunque per la Provenza e quindi detto fatto abbiamo prenotato e siamo partiti da mercoledì a sabato è stato un momento rigenerante piacevolissimo dove ci siamo proprio ritrovati come coppia e non più tanto come genitori con tutti i problemi legati ai figli legati al lavoro legati ai genitori cioè ci siamo proprio ritagliati questi quattro giorni bellissimi e è stato faticoso ritrovarsi perché non siamo più abituati siamo abituati a fare i genitori siamo abituati a fare i figli ma non siamo più tanto abituati a fare la coppia e questo momento è stato per noi davvero rigenerativo bellissimo ci siamo goduti l'un l'altro ed è una cosa che consiglio a tutte le coppie soprattutto a chi è nella fase come la nostra che se hanno i figli grandi se hanno i genitori anziani ci sono i problemi di tutti i giorni che ci portiamo sulle spalle ma arriva un momento in cui secondo me bisogna proprio trovare il coraggio perché a volte bisogna essere coraggiosi di fare alcune cose insieme in due ed è stato proprio proprio bello davvero ci è servito tantissimo e anche se sono stati soltanto quattro giorni cinque giorni devo dire che è come se fossero stati quindici giorni di vacanza rilassante quindi se potete se riuscite ritagliatevi dei piccoli momenti con vostra moglie con vostro marito con la vostra compagna con il vostro compagno per così per riguardarsi con uno sguardo diverso non con gli occhi di quando eravamo innamorati di quando eravamo giovani di quando eravamo una giovane coppia no gli occhi lo sguardo dell'amore su una coppia come noi che insieme ormai da 30 anni e si conosce da 40 cambiano cambiano perché se io guardassi Paolo cercando il sedicenne il ventenne il trentenne che ha camminato con me non lo ritroverei più stessa cosa ovviamente anche lui ecco bisogna abituare anche lo sguardo che riesce ad apprezzare ad amare quello che sei diventata e ho diventato e secondo me lo si può fare soltanto trovando dei momenti proprio per la coppia bellissimo veramente sono tornata rigenerata contenta rafforzata ecco davvero molto bello poi un'altra settimana che abbiamo passato abbiamo passata con nostro figlio Pietro e siamo saliti tutti da lui perché Pietro e Federica hanno trovato casa lì a Vico ci hanno comprato casa lì a Vico e però quando si è giovani si fanno alcune cose e non si pensa che ci siano delle conseguenze come per esempio lasciare la casa in affitto in cui si è ma non avendo l'altra casa già pronta e quindi adesso si stanno arrabattando comunque facendo le cose un po' di corsa e grazie soprattutto anche ai genitori di Federica che gli stanno dando una grossa mano noi purtroppo non abbiamo potuto fare più di tanto io ho fatto la cuoca per una settimana ma la cuoca c'è la cuoca d'albergo da ristorante ragazzi questi mangiavano come non hanno mai mangiato ma come quantità capisco che effettivamente gli orari di chi fa un lavoro come loro che è un lavoro ma è anche una passione quello di cercare di mettere insieme un'impresa, un'azienda agricola avendo qualche capo di animali facendo il formaggio, facendo gli yogurt, cercando comunque di vendere i loro prodotti è molto faticoso bello perché devo dire che mi è piaciuto molto vedere come vivono effettivamente la giornata ma molto faticoso quindi magari alla sera rientrano, sono stanchi, si preparano un piatto di pasta veloce o mangiano qualcosa di veloce il fatto che noi fossimo sugli abbiamo dato davvero una piccola mano per quello che era l'organizzazione dei lavori che si potevano fare ma il preparare da mangiare, arrivare in casa, sedersi, trovare da mangiare poi ovviamente una mamma che cosa fa, vuoi che non prepari i piatti preferiti di tuo figlio sì, li ho preparati, devo dire che ha anche mangiato con gusto anzi pensavo addirittura che stesse male una sera perché ha mangiato fin troppo però insomma questo è stato il poco aiuto che siamo riusciti a dargli ma spero loro siano stati contenti, continuavano a dirci grazie e non vi nascondo che ci sono stati anche dei momenti così di nervosismo perché loro sono abituati a stare da soli e noi eravamo 4 più loro 2, 6 e in alcuni momenti devo dire che la convivenza è stata abbastanza difficoltosa ma è andata bene così che altro fatto poi che non vi ho raccontato sono andata ovviamente al campeggio con i ragazzi dell'oratorio con la mia amica Monica, Gina e suo marito Nazario e la mitica Mariuccia che è la mamma di Monica e devo dire che anche quest'anno è stata un'esperienza bellissima ogni anno secondo me è sempre meglio per quello che riguarda il nostro coinvolgimento e l'amicizia che ci unisce perché ci si conosce sempre di più perché si impara a stare insieme anche noi che abbiamo una certa età perché non è così facile e quindi niente finché riuscirò a farlo questo sarà una cosa che farò molto volentieri perché mi regala davvero tanto adesso a settembre ci sarà appunto la festa dell'oratorio stasera abbiamo una riunione per mettere un po' i puntini su lei e cercare di capire bene come fare e niente quindi è stata un'estate molto molto bella che mi ha fatto anche pensare che mamma mia se è passata così bene vuoi vedere che quest'inverno mi arriva qualcosa una tegola sul collo ma speriamo di no speriamo che sia stata soltanto un'estate molto bella e che ci sarà un altro anno altrettanto bello e tranquillo speriamo sono stata veramente lontana dai social penso lo abbiate visto non sono venuta a trovare gli amici e le amiche che hanno canali youtube per prima cosa perché davvero ero proprio spesso fuori casa seconda cosa con questo caldo facevo fatica a tenere le cuffiette e le cuffie per ascoltare i video quindi ero veramente molto nervosa e poi come vi ho detto sono arrivata che ero abbastanza stremata e quindi è stato giusto così adesso si ricomincia pian piano si fanno tantissimi progetti almeno io a settembre faccio sempre tantissimi progetti non ne mantengo neanche uno speriamo di riuscire a fare le cose come il signore comanda e di riuscire comunque a rimanere sereni e tranquilli per un po' di tempo bene dopo questa lunga chiacchierata dove mi sono permessa di raccontarvi brevemente la mia estate poi volevo farvi comunque un video sui profumi che ho comprato a grass raccontarvi qualcosina ma lo facciamo in un altro capitolo c'è anche un video dei prodotti finiti della casa perché ne ho veramente una marea e nonostante facesse caldo comunque la casa bisogna farla andare avanti anche se non nella maniera come intendono tante altre persone il minimo indispensabile quindi detersivi tante altre cose devo svuotare il mio solito bagnetto di servizio che è pieno di flaconi e poi ci saranno la seconda parte di libri letti perché questi non sono tutti i libri che ho letto ne ho già letti altri quattro ma ve li presenterò in un prossimo video perché sennò sicuramente già questo sarà un video lunghissimo però vabbè ragazzi è più di un mese che non ci vediamo ci sta ve lo sentite a spizzichi e bocconi quando e come volete voi se lo volete sentire partiamo da due romanzi che sono uno di seguito all'altro ho preso in biblioteca il primo che è questo delitto all'ora del vespro del reverendo Richard Coles non so come si dica in inglese lui è veramente un reverendo e racconta in uno stile molto leggero molto bello come se fossero dei gialli alla Jessica Fletcher ecco diciamo così non voglio sminuire il reverendo ma proprio perché sono molto leggeri belli si leggono velocemente il primo l'ho preso in prestito in biblioteca il secondo aveva una lista lunghissima di attesa e me lo sono acquistato di cosa raccontano questi due romanzi raccontano appunto di questo reverendo nella comunità di Champton lui si chiama Daniel Clement è il rettore della parrocchia di San Martin dove c'è appunto il paese di Champton un caratteristico villaggio della campagna inglese quindi anche qui l'atmosfera proprio bella bucolica con questi personaggi che mi ricordano molto i personaggi della serie televisiva che io amo alla follia dell'ispettore Barnaby devo dire che le caratteristiche di questi villaggi inglesi è proprio così quindi secondo me è anche un po' una verità di quelle gare di queste signore anziane per il fiore più bello per la staccionata meglio curata tutte queste cose che noi cittadini non è che comprendiamo molto ma leggerli e comunque sentirli raccontare ti fa entrare così in questo mondo così bello in cui mi piacerebbe anche poter vivere qualche settimana e nulla nel primo romanzo questo Daniel vive in questo paesino con la mamma Audrey che le fa un po' da perpetua ed è anche proprio stile perpetua una che si impiccia in tanti affari del figlio sacerdote e che ha intorno a sé una serie di vecchiette molto pettegole dove nessuno sa nulla ma tutti sanno tutto perché ti racconto questa cosa e mi raccomando non dirla a nessuno l'altra dice ti racconto questa cosa però mi raccomando me l'ha detta Audrey non dirla a nessuno ti racconto questa cosa è tutto un passaparola poi da una cosa piccolina la cosa diventa gigante e nulla per farla breve perché sono qua ci mettiamo veramente un mese come quello che è passato nel primo romanzo la comunità viene un attimo messa alla prova dalla proposta del sacerdote di costruire di fare dei bagni nella chiesa perché la sua chiesa ne è sprovvista e visto le esigenze comunque di un paese dove ci sono persone anziane dove magari qualche disabile qualche persona avrebbe bisogno di andare nel bagno in chiesa e non di usufruire del bagno della casa di Daniel la comunità si divide chi è favorevole e chi non è favorevole e intorno a tutto questo ambaradanco una riunione per approvare vediamo come spostare le panche no io non voglio spostarmi dall'ultima panca perché lì sono sempre andato con i miei genitori lì ci sono sempre stato la mia panca in chiesa non si sposta capita che una sera all'ora del vespro Daniel trovi un cadavere e da lì parte l'indagine conosceremo poi un un ispettore in poliziotto un ispettore di polizia che diventerà amico di Daniel nel secondo romanzo capiremo anche che Daniel prova una certa simpatia per questo poliziotto per questo amico che però alla fine sembra venga disillusa e questa è stata una cosa che mi ha proprio colpito perché proprio nelle ultime pagine io mi aspettavo un finale diverso e invece mannaggia a me mi sa che mi devo aspettare il terzo romanzo che non è ancora uscito mentre per il secondo romanzo parla praticamente siccome la parrocchia i preti sono sempre meno e le parrocchie senza sacerdoti sono sempre di più arriva praticamente una famiglia con un altro sacerdote che aiuterà Daniel nella sua missione pastorale i due non vanno molto d'accordo hanno delle idee completamente diverse e purtroppo proprio nelle prime pagine non è che vi dico uno scoop perché viene fuori subito praticamente il figlio del sacerdote che viene in aiuto viene ritrovato morto in una cappellina che c'è all'interno del villaggio anche qui il reverendo si darà molto da fare cercando prove cercando di indagare appunto con con l'amico con l'amico poliziotto e alla fine appunto si giungerà a una soluzione di questo di questo caso davvero due romanzi molto molto carini che vi faranno entrare appunto in questa atmosfera inglese un po' all'ispettore Barnaby o a padre Brown se volete perché assomiglia molto e io ve li consiglio molto perché perché sono leggere si leggono veloci ci regalano così dei momenti un po' spensierati sono chiaramente degli omicidi non sono gialle o thriller un po' all'acqua di rose io li definisco però molto molto piacevoli poi vi avevo detto che su un blog che in questo momento mi sfugge il nome ma vi lascerò poi nell'info box come sempre con tutte le informazioni dei libri avevo trovato una lista di libri che questa ragazza aveva messo a disposizione dove in tutti i libri c'era un riferimento alle arti creative che poteva essere il ricamo che poteva essere la sartoria che poteva essere la maglia e su questi fili viene poi costruito il romanzo allora quello che mi è piaciuto di meno ma non posso dire che non mi è piaciuto è soltanto scritto in un modo un po' strano che io faccio un po' fatica a comprendere allora questo romanzo è il cappotto della macellaia di Lilia Carlota Lorenzo e questa è la copertina che mi è piaciuta molto perché non mi è piaciuto perché è stato usato un linguaggio secondo me un po' troppo volgare un po' troppo scurrile un po' troppo spesso allora io non sono una puritana di parolacce ne dico un'infinità ma secondo me quando non è il caso anche così essere sempre così sul sul pezzo ecco mi ha dato un po' fastidio questa cosa nulla toglie che il romanzo sia veramente molto molto divertente perché si costruisce tutto su questo cappotto il cappotto della macellaia che una sarta sta confezionando perché in questo piccolo paesino dimenticato da dio e adesso se riesco a leggerlo perché qui è scritto piccolissimo ho cambiato anche gli occhiali devo andare a ritirarli allora Palo Santo un paese apparentemente innocuo della pampa argentina 207 abitanti tutti si conoscono tra loro i pettegolezzi corrono più veloci dell'incessante vento che annuncia l'arrivo della tormenta mentre la sarta continua a cucire e scucire il cappotto per la figlia della macellaia che a forza di ingozzarsi di paste con la panna non fa che ingrassare si consuma un insolito e inquietante omicidio e una serie di fatti strani cominciano ad accadere allora è un romanzo come vi dicevo molto molto divertente perché diciamo gira intorno a cinque personaggi che sono questi abitanti di questo piccolo paese insomma si torna sempre lì si parte dalla sarta si arriva alla macellaia alla figlia della macellaia al macellaio poi c'è la merciaia e poi si ritorna insomma sono sempre quelli i personaggi e questo cappotto è l'anima del libro non vi svelo di più perché perché ha il suo perché questo libro è effettivamente un giallo un giallo un romanzo giallo devo dire anche dai risvolti abbastanza inquietanti molto bello non conoscevo questa scrittrice che ho poi capito che è argentina ma che abita da molti anni in Italia e dice di se stessa adesso non esco più di casa ho solo amici virtuali di tutti i mestieri che ho fatto scrivere è senza dubbio il più divertente niente male come compagno della vecchiaia che si avvicina deve essere un personaggio anche molto particolare anche la scrittrice comunque una lettura piacevole ecco alcune volte mi ha disturbato il linguaggio che era stato usato vado in ordine di gradimento stavo dicendo piacimento ma è gradimento allora Kashmir Rosso Cristiana Muro Muro? comunque io poi vi lascio tutte le indicazioni un romanzo bellissimo Kashmir Rosso parla di un maglione di Kashmir Rosso vi leggo la trama nel caleidoscopio di colori del mercato di Ordos in Cina ce n'è uno che spicca su tutti è il rosso brillante e purissimo di un maglione di Kashmir Alessandra se ne innamora subito è quella la perla rara che le permetterà di risollevare le sorti della sua boutique di Firenze a vendeglielo è una ragazza di nome Bolorma e lo fama l'incuore perché per lei quel maglione è casa lo ha infatti realizzato con l'ultima lana del suo allevamento prima che l'estate troppo torrida e l'inverno eccezionalmente rigido sterminasse il grege e la costringesse a lasciare la Mongolia è un incontro fugace eppure l'immagine di quella signora libera ed elegante rimane scolpita nella mente di Bolorma a poco a poco quel ricordo fa maturare in lei il sogno di una nuova vita in Italia e così armata solo del biglietto da visita che Alessandra le regala che le lascia Bolorma si imbarca in un viaggio rischiosissimo per farla arrivare in Italia un viaggio rischioso un viaggio doloroso dove perde un'amica cara un viaggio molto pericoloso perché si sa che chi intraprende viaggi di questo tipo viaggi clandestini lo fa a suo rischio il pericolo di vita lo sappiamo perché lo vediamo giornalmente quasi nei nostri telegiornali questi uomini e queste donne investono tutto quello che hanno per una vita migliore però purtroppo anche arrivando in Italia non ha trovato subito quello che stava cercando ma questo maglioncino questo maglione così prezioso perché racchiude davvero tutto l'amore che questa ragazza ha per la sua mongoglia per le sue montagne per l'aria pura per il suo essere nomade per il poter cavalcare libera sui prati delle sue montagne e racchiuso tutto in questo maglione e questo maglione alla fine riuscirà a regalargli la libertà a regalarle la libertà a regalarle una vita migliore che però appunto è stata conquistata con delle lacrime rosso sangue un romanzo veramente molto molto bello molto profondo che vi consiglio si legge velocissimamente poi quando i romanzi prendono davvero stavo su fino alle due le tre di notte a leggerlo perché mi piaceva tantissimo poi con questo caldo non si riusciva neanche tanto a dormire quindi diciamo che è stata una piacevole compagnia come tutti i libri che ho letto e che sto leggendo altro libro meraviglioso Valeria Montaldi Il filo di luce allora io ho sempre sentito parlare molto molto bene di questa scrittrice ma non mi sono mai avvicinata a nessun suo libro qui si parla del Ducato di Milano nel 1447 l'arte della seta farà di questa ragazza una donna libera e anche qui parliamo di una rinascita parliamo di donne con con una voglia di risollevarsi purtroppo dalle situazioni brutte della vita allora qui parliamo appunto del Ducato di Milano nel 1447 mentre il popolo festeggia la morte di Filippo Maria l'ultimo tirannico a Duca dei Visconti e si apre la lotta per la successione Margherita combatte però con la sua personale battaglia una battaglia che le permette di riscrivere un destino già segnato da troppi soprusi orfana di una carcerata e allevata da una donna che non si fa scrupolo di vendere il suo corpo da bambina Margherita è una reietta della società fino all'incontro con Ilide conversa all'ospitale della Colombetta che le insegna i rudimenti della lavorazione della seta e da questo momento Margherita inizia a prendere in mano i figli effettivamente della sua vita Margherita è una ragazza che poi diventerà donna che non si lascia mettere i piedi in testa sappiamo che soprattutto in quei tempi tutto quello che era legato alla sartoria ai sarti all'importazione delle stoffe era prettamente di mondo maschile qui Margherita proprio grazie al marito che poi troverà e che la amerà veramente tantissimo impara l'arte di lavorare la seta e soprattutto impara l'arte di poter costruire un commercio che le salvi la vita e che dia la possibilità anche ad altre donne di poter vivere in maniera decorosa soprattutto ai tempi non si lascia mettere i piedi in testa riuscirà a costruire un impero anche se saranno tante le difficoltà che incontrerà un bellissimo romanzo soprattutto mi è piaciuto tanto perché parla delle zone vicino a casa mia parla dell'Abrianza dove ci sono molti settifici adesso purtroppo non ce ne sono più parla di paesi che conosco molto molto bene parla di una Milano bella ma molto dura come può essere una città ricca di commercio soprattutto a quel tempo perché le donne non erano assolutamente considerate e qui c'è veramente una rinascita personale di Margherita ma non solo di Margherita anche di tutte le donne che girano intorno a lei e che poi alla fine costruiranno qualcosa di veramente unico per quel periodo dove le donne potranno avere una parte importante in quello che è il commercio della seta e il commercio tessile davvero un romanzo stupendo e di questa scrittrice vorrei proprio leggere altri romanzi bellissimo bellissimo un romanzo che vi tiene attaccato alla lettura dalla prima all'ultima pagina e mannaggia che è finito però veramente molto molto bello anche molto doloroso non non tralascia niente però un romanzo stupendo e l'ultimo che avevo messo un post sui social prima di sparire di Ilaria Tutti come il vento cucito alla terra mamma mia allora fino ad un certo punto mi sono chiesta ma cosa c'entra questo libro con il fatto che è stato proposto su questo blog di questa ragazza di cui adesso non ricordo il nome ma come vi ho detto vi lascerò tutto nell'info box com'è possibile che sia legato a un'arte creativa non era cioè più quasi a metà del libro non sono riuscita a capire cosa c'entrasse quando l'ho capito è stata una scoperta meravigliosa un libro forte un libro doloroso un linguaggio un modo di scrivere di questa scrittrice spettacolare vi leggo brevemente non vi leggo la trama ma quello che viene detto di questo libro questa è la storia dimenticata delle prime donne chirurgo una manciata di pioniere a cui era preclusa la pratica in sala operatoria che decisero di aprire in Francia un ospedale di guerra completamente gestito da loro questa è storia vera cioè Ilaria si è documentata ed ha raccontato in un romanzo la storia vera di queste due dottoresse che hanno fondato ed hanno aiutato gli ospedali nel momento della prima guerra mondiale ma è anche la storia dei soldati feriti rimasti invalidi che varcarono le soglie di quel mondo femminile convinti di non avere speranza e invece vi trovarono un'occasione di riabilitazione di riscatto non vi dico perché ma lo capirete ci sono vicende incredibili rimaste nascoste nelle pieghe del tempo sono soprattutto storie di donne Ilaria Tutti riporta alla luce la straordinaria ed epica impresa di due di loro è veramente un romanzo che vi consiglio di leggere perché mi ha regalato delle emozioni fortissime ho pianto ho riso c'è anche se vogliamo la parte così dell'amore che comunque è sempre bella in un romanzo ma qui c'è la storia di quanto le donne ancora una volta riescano a riemergere riescano a rinascere riescano a sopravvivere e vivere in maniera piena in maniera grande proprio grazie alle loro abilità un romanzo davvero che mi ha lasciato a bocca aperta e sicuramente tanti di voi mi hanno consigliato anche gli altri romanzi adesso li prenderò perché me li voglio leggere proprio tutti oibo ho finito questa è una prima parte ma penso di essere già stata sufficientemente lunga in questo video di ritorno che dirvi che dirvi che spero adesso appunto rientrando nella normalità della vita quotidiana di riuscire a pubblicare in maniera un po' più puntuale anche se voglio proprio prendermi il tempo giusto per tutte le cose lo so che lo dico sempre e probabilmente siccome non riesco mai a farlo lo dirò ancora per tanto tempo però alcune cose sono riuscita ad aggiustarle a fare un po' quello che volevo a dire tanti no a dire anche tanti sì a scegliere quando dire no e a scegliere quando dire sì quindi spero comunque di continuare appunto con puntualità a condividere con voi quelle che sono le mie passioni ma anche ad avere un po' di tempo per tutto il resto insomma io spero che tutti voi abbiate passato una bella estate sia che siate riusciti ad andare in vacanza ma anche se soltanto vi siete riposati a casa e che questo settembre sia così proprio un settembre carico di aspettative di nuove proposte di cose belle per tutti vi ringrazio per essere arrivati fino a qua se ci siete arrivati questo è stato un po' un video di ritorno di racconto di tutta l'estate e vi do appuntamento ad un prossimo video grazie di cuore e un bacione a tutti a presto ciao